salve a tutti ragazzi ecco cosa è successo ieri 27 giugno 2022 partiamo con la prima notizia tornato a zir di zkzee olanda che nome strano ragazzi comunque guardate che furia mamma mia che bel tempo qui invece ragazzi ore 16 e 40 si muore dal caldo vedete lì è volato tutto e di più eruzione del vulcano sakurashima giappone oramai tutto il pianeta è impazzito pioggia inondazioni eruzioni non si capisce nulla ragazzi vediamo qua che cos'è inondazioni in turchia guardate qua ragazzi si porta tutto le strade sono fiumi e qua ragazzi neanche un goccio d'acqua guardate qui invece inondazioni in cremea salvano le persone col gommone veramente il clima ragazzi è impazzito sce spazAlright sce c A spaz ändolo sce